Io la verità sono contento per tutta la partita che ha fatto il Lanciano, è vero che nel primo tempo abbiamo giocato meglio e abbiamo anche rischiato di andare in vantaggio. Devo dire che anche dopo il gol il Lanciano ha avuto un'ottima reazione, forse l'unico rimprovero sono gli ultimi dieci minuti dove comunque avevamo dato tanto. Io avevo detto in settimana che ci sono modi e modi di perdere, diciamo che questo forse è quello più bello. I ragazzi stanno lavorando bene, mi auguro che continuino a farlo e soprattutto che possano centrare l'obiettivo nelle prossime otto partite facendo degli ottimi risultati. Sentivamo tutti questa partita come magari è una partita veramente più importante di tutte e poi penso che devo dare anche demerito mio, magari perché l'ho caricata troppo. Prima mezz'ora secondo me è tanta roba, la squadra ha giocato a livelli molto molto importanti, la palla viaggiava veloce, troviamo Varchi, bene, molto bene. Dopo di quello penso che eravamo un po' troppo nervosi, però devo dire che la mia squadra è quella che ha fatto differenza quest'anno che ha altro tipo di valori come sono umiltà, saper soffrire, essere molto concentrati, non commettere errori.